Grazie a tutti. Ecco, questo è lo spinning. Un attimo, prima fammolo venire perché... Grazie, intanto... No, no, ma me lo chiamo qua, lo devo tirare via dalla corrente. No, quando salta... Guarda che sprizionata. Guarda che sprizionata. Che è successo? Posso rubare il copro? E' preso fuori. Un attimo, un attimo, un attimo. Staccavamo tutti. Non c'è il mio riguadino là. Ecco, va bene. Grazie. Faccio la spetta, ho fatto questa. Adesso lo canto sull'igualino del testo. Sì, va bene. Si ripara adesso. Staccavamo tutti. Un attimo, occhio alle dita. Occhio attento. La bocca. Attento, attento. No, ti pianti... La dita tu. Lascialo là, lascialo là. Lo devo prima agganciare e poi lo devo slamare. Lo lascio così. Sì, sì, grazie. Allora, la mano a posto. Allora, dai. Devo rimanere. Vado a rimanere. No, non è duro. Aspettiamo che faccio la prova. Allora, a posto. Vado a riportare. Sì? No, sì. Ciao ragazzo. Ciao ragazzi. Quante mani non è sì? Sì, volendosi. No, accettivi? Sono buonissimi in realtà. Però se si spettacolo più. Esatto.